Musica Benvenuti a Punto 13 Talk, oggi parleremo di spettacolo nella seconda parte, però nella prima parleremo di volontariato, parleremo di un'associazione molto importante, quella Action Aid, e per parlarne vi presento subito la nostra ospite che è Nicoletta Riccardi, referente territoriale di Bari, Action Aid. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Innanzitutto parliamo subito e spieghiamo che cos'è Action Aid. Sì, Action Aid è un'organizzazione internazionale indipendente, lavora da 40 anni ed è impegnata nella lotta alle cause della povertà e dell'esclusione sociale a livello internazionale. È presente in Italia dal 1989, è riconosciuta sia come organizzazione non governativa che come ONLUS. E noi siamo presenti su Bari da quest'anno, dal 2012, all'interno della strategia di radicamento territoriale. Cosa fate a Bari? Perché insomma è la novità a Bari, cosa fate voi? Ma soprattutto poi volevo sapere anche cosa possiamo fare noi, perché credo che voi abbiate anche bisogno di volontari. Assolutamente. La risposta è un inizio, diciamo, di risposta, perché siamo arrivati qui con l'idea di costruire insieme un percorso. Allora, detto che la mission di Action Aid è appunto la lotta all'esclusione sociale, alle cause della povertà, qui in Italia vogliamo metterci in rete con chi lavora sul territorio e affrontare quelle che sono le nuove povertà. Quindi oltrepassare la differenza fra Nord-Sud, paesi ricchi e paesi poveri, che non c'è più o se c'è mai stata. E quindi affrontiamo gli stessi argomenti sui quali lavoriamo all'estero, quindi la difesa di diritti umani, la giustizia sociale, ma declinati localmente. Quindi da quando siamo, diciamo, presenti sul territorio, da quest'anno, abbiamo fatto rete con le altre organizzazioni, ci siamo anche fatti più conoscere dalle istituzioni locali, abbiamo fatto degli eventi mirati su alcuni degli ambiti, diciamo, tematici più rilevanti per noi, tra cui il diritto al cibo e in questo caso anche su Bari l'accountability, ovvero la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Quindi dopo un elemento, diciamo, di presentazione a maggio 2012 abbiamo organizzato a luglio due eventi. Uno, il primo luglio, era un pomeriggio a piedi nudi nel parco, quindi con altre 11 organizzazioni del territorio che si occupavano di tutti i nuovi stili di vita, abbiamo parlato di quello che è per noi la ricetta sui nuovi stili di vita per assicurare il diritto al cibo di tutti. Accione in particolare porta avanti una campagna di lotta ai biocarburanti, perché crediamo che i biocarburanti di prima generazione nei paesi in via di sviluppo siano in netta competizione con quello che è il diritto al cibo della popolazione di tutto il mondo e in particolare dei paesi in via di sviluppo. La situazione sul territorio barese com'è? Sicuramente, purtroppo risponde alla situazione altrettanto a rischio di esclusione sociale come quella in cui lavoriamo nei paesi in via di sviluppo. C'è la voglia di lavorare insieme, ma al tempo stesso ci sono le sfide che il lavoro di rete presenta. Quindi noi ci imponiamo con la nostra expertise, le nostre buone prassi che abbiamo anche sviluppato nei progetti all'estero in 40 anni di lavoro, ma vogliamo metterle sul tavolo insieme a quelle che sono le esperienze e la conoscenza di chi lavora sul territorio da molto più tempo. Come possiamo fare per aiutarvi come i baresi e non? Credo che poi sia più che altro un discorso allargabile e allargato anche alla Puglia. Come possiamo fare per venirvi incontro, per aiutarvi? E anche in che modo, che tipo di apporto possiamo darvi? Questo è molto interessante come tipo di approccio alla supporto dell'organizzazione, perché la nostra risposta non è semplicemente fare una donazione, perché ci rendiamo conto che in questo periodo di crisi può essere difficile. L'attivismo è la prima risposta, soprattutto informarsi, quindi si può andare sul nostro sito che è www.actionaid.it e si sarà al corrente di tutte quelle che sono le nostre campagne. Attivarsi vuol dire, a seconda del tempo di esposizione, andare sul sito, documentarsi, parlare con gli altri, fare da eco le nostre campagne, partecipare ai nostri eventi o ovviamente, quindi andando sempre più su, firmare le nostre petizioni come la petizione contro i biocarburanti che abbiamo presentato con 17.000 firme al Ministro Clini pochi giorni fa, ovviamente anche un sostegno di tipo finanziario a quelli che sono i nostri progetti nei paesi in via di sviluppo e ai progetti qui in Italia, in Puglia. Noi stiamo presentando le nostre idee progettuali a vari enti locali, a vari enti nazionali o finanziatori diciamo locali che possano darci la possibilità di incominciare a lavorare sul territorio, soprattutto in ambiti di nuove povertà e partecipazione, in ambito di diritti delle donne nelle aree metropolitane e nel terzo ambito di quelli che sono i diritti nell'ambito dell'agricoltura. Anche perché con le nuove povertà, con la crisi economica che purtroppo si è abbattuta da qualche anno anche sull'Italia, credo che le nuove povertà siano molte, quindi siano molti nuovi poveri. Sì, infatti alla fine si chiamano nuove povertà soltanto perché le caratteristiche di questi nuovi poveri sono diverse rispetto a quello che è l'immaginario del povero dei paesi in via di sviluppo, però non c'è niente di nuovo, il nuovo può essere l'approccio che Acceney propone, che è quello della partecipazione della cittadinanza attiva, per questo le nuove povertà vanno insieme alla partecipazione, cioè se non ci si mette in prima linea a partecipare alla vita della propria città non cambierà molto. Parliamo di questa operazione fame, prego anche la regia di mandare in onda delle immagini. Pulciando il vostro sito io leggo una frase che mi ha toccato molto, niente al mondo uccide quanto la mancanza di cibo, non le guerre, non le catastrofi ambientali, non le malattie, piuttosto la mancanza di una alimentazione adeguata mina la radice ogni speranza di futuro per oltre un miliardo di persone. Di qui siete intervenuti voi, siete intervenuti voi anche con un libro, i menù che fanno del bene. Che cos'è questa operazione? Vediamo qui un Paola Marella che credo sia un architetto, un interior designer che vediamo anche in televisione, con un cuoco. Cos'è dunque? Stavamo dicendo, chiedo scusa se lo interrotta questa operazione fame. L'operazione fame è una campagna che Action Aid porta avanti da tempo, e proprio perché la lotta alla fame è una delle nostre attività principali, e la consapevolizzazione su quale è la ricetta contro la fame. Infatti questo è lo spot che abbiamo mandato in onda con i nostri testimoni, che appunto lei ha citato, perché la ricetta contro la fame è molto semplice, parte dal comportamento di ogni individuo, e noi attraverso questo libro parte anche dal comportamento che si ha a tavola. Quindi con le scelte che si fanno in prima persona, quindi ritornando ai discorsi prima, non bisogna pensare che la lotta alla fame sia soltanto quando si fa una donazione e si pensa che ha fatto il proprio contributo, ma attraverso quello che si compra per cucinare, e quindi noi consigliamo attraverso questo menù, diciamo, i menù che fanno del bene, che presenteremo lunedì alla Feltrinelli alle 18.30, e che sarà appunto acquistabile in queste librerie. Delle ricette che utilizzano prodotti di stagione, possibilmente a chilometro zero, e che facilitano o che incoraggiano l'utilizzo o il riutilizzo di scarti, cioè di avanzi come facevano le nostre nonne. E questo libro, che ha tanti appunto consigli su quelle che sono le ricette del menù che fanno del bene, ha la prima parte del libro, che è la nostra ricetta contro la fame, che consiste in una ricetta di diritti umani, come diciamo appunto, consigliamo di dare diritti umani a volontà. Ora lo stiamo vedendo mentre lei parla, noi lo stiamo vedendo, ricordiamo che, scusa se la interrompo, sono 50 ricette di volti noti, una l'abbiamo vista, Food Blogger, Contro la fame e la povertà, lunedì, Libreria Feltrinelli, ripetiamo a che ora? Alle 18.30. Alle 18.30, ovviamente poi tutti i proventi saranno devoluti per questa operazione fame. Sì, andranno proprio alla campagna operazione fame. E quindi dicevamo, la ricetta contro la fame, che è una ricetta che è destinata a cui 925 milioni di persone che ogni sera vanno a letto affamati, secondo le ultime stime della FAO. Tanti anche i bambini. Soprattutto. E quindi, quando si va a letto affamati, ovviamente il diritto al cibo o il diritto alla salute sono messi tutti in discussione. Quindi la nostra ricetta come ingrediente fondamentale è i diritti umani, che sono alla base di qualsiasi tipo di soluzione che abbia come obiettivo la giustizia sociale per tutti. Poi sicuramente l'ambito dell'agricoltura è fondamentale. Una delle contraddizioni che vengono più alla luce è persone nei paesi in via di sviluppo soffrono la fame quando hanno apparentemente a disposizione ampia di estensione di terreno. Il problema è l'accesso alle risorse, quali terra, acqua, sementi, diciamo attrezzature per coltivare il terreno, dei quali non sono proprietari. Quindi sicuramente l'ambito dell'agricoltura è chiave nell'accesso alle risorse, nel dare più diritto e spazio alle donne, perché le agricoltrici sono le principali lavoratrici nell'ambito dell'agricoltura nei paesi in via di sviluppo. E basti dire che nel continente africano, dove l'agricoltura è soprattutto realizzata dalle donne, solo l'1% delle donne ha il diritto di proprietà sulle risorse. Quindi si capisce già che c'è uno squilibrio sul quale bisogna intervenire. E poi sicuramente un modello di agricoltura su piccola scala di tipo sostenibile, insieme poi alla lotta ai biocarburanti, come dicevo prima, che è fondamentale, perché se si sottraggono grandi estensioni di terreno nei paesi in via di sviluppo, per coltivare delle commodities alimentari, dei prodotti alimentari che vengono bruciati per produrre biocarburanti, è evidentemente in contrasto con l'oro di vita al cibo. Poi purtroppo c'è anche il problema dell'acqua, io credo, in questi territori, quindi oltre alla proprietà, anche l'accesso all'acqua, al diritto, che poi è un diritto quello dell'acqua, ma è negato soprattutto nei territori in cui ce n'è più bisogno. E quindi non si ha neanche il permesso né di accedere, né tantomeno di poter coltivare la terra. Quindi queste mamme devono fare i conti non soltanto con la propria famiglia, ma anche con i bambini. Sì, assolutamente. Infatti nei progetti che realizziamo nei paesi in via di sviluppo, l'accesso all'acqua e il microcredito, soprattutto rivolto a donne, per avere microcredito per sementi e piccoli allevamenti, sono sempre indirizzati a questo tipo di agricoltura. Io la ringrazio. Grazie mille a Nicoletta Riccardi, grazie per essere stata con noi, grazie per il suo contributo. lunedì 18.30, Libreria Feltrinelli, i menù che fanno bene. Ora vi lascio per la pubblicità, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo in studio e parleremo di spettacoli. Rieccoci in studio, vi avevo anticipato che avremmo parlato di spettacolo, più che altro del mondo musicale, perché sono in compagnia dei Clevici, un gruppo musicale barese. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Grazie, grazie. Noi parliamo con Davide Fornasaro e Gianluca Fusco. Presente. Cantante e rapper, o il contrario. Il contrario. Il contrario. Ieri il vostro nuovo video, che ha già abbastanza contatti, siamo arrivati al migliaio, credo. Il bacio di Giuda. Sì, ieri il contattore si è bloccato di YouTube, quindi quando metti un video... Quindi quello che abbiamo visto noi è quello fermo, no? No, no, il giorno dopo lo aggiornano. Però, appunto, ieri si è bloccato, quindi vuol dire che ci sono state molte visualizzazioni. Già ad oggi abbiamo, sì, migliaio di lavoro, siamo arrivati, tranquillamente. Il video era per la regia di Dario, Lucky Dario, Dario Fortunato. È uscito ieri, siamo contentissimi, perché è un lavoro molto bello, abbiamo avuto i primi complimenti. Poi abbiamo incontrato anche altri ragazzi che fanno questo genere, ci hanno fatto i complimenti, è piaciuto, sta piacendo, insomma. Però diciamo anche chi canta, l'ospite d'onore. L'ospite d'onore è il nostro carissimo amico, si chiama Gothic, il nostro rapper, Davide. Noi intanto stiamo vedendo in onda le immagini, interamente girato a Bari. Assolutamente sì, abbiamo avuto come location l'Hotel Oriente, in centro, i vostri camerini a Antena Sud, quindi dobbiamo ringraziare anche voi per la collaborazione. Ho svelato, avete occupato la nostra sala trucco. Sì, abbiamo un po' occupato, diciamo un po' finti VIP per qualche minuto, è stato molto bello e dobbiamo ringraziare per la scena finale, il Demo Day, perché... Dove ieri sera avete cantato? No, ieri sera non abbiamo cantato, c'è stata l'inaugurazione di Bari Pop Metro, che ormai ci tiene compagnia da quattro anni, è questa organizzazione che ormai sta andando davvero forte, sono quattro anni che spingono l'hip hop a Bari, contattano un sacco di rapper famosi, di cantanti famosi e riescono a portarli qui a Bari e a chi piace questa musica è davvero un punto di riferimento e siamo contentissimi appunto delle location, del Demo Day, del Bari Pop Metro che ci sostiene, siamo contenti insomma. Cosa cantate? Perché io ho visto un po' di titoli, sono anche d'amore, cioè magari uno non si aspetta da voi che si parli d'amore nelle vostre canzoni, invece improvvisamente lei, io leggo succede all'improvviso quando meno te lo aspetti la vita ti sorride le scompaiono i difetti e poi ovviamente continua. Sì, diciamo che noi principalmente siamo un gruppo che parla di tematiche d'amore o comunque che riguardano la vita privata. I nostri giorni di riferimento sono i giovani diversi o comunque i sottotono. Ormai in questi giorni c'è una diatriba sull'hip hop, sul rap, sulle storie, noi non sappiamo come definirci in realtà. Noi facciamo un rap molto melodico, ci sono i tornelli che appunto canta Gianluca molto melodici e le canzoni d'amore sono il nostro forte. Infatti prossimamente usciranno due video dove metteremo in risalto le nostre canzoni che abbiamo fatto d'amore appunto. Chi scrive Dei Due? Beh, Dei Due scrive il buon Davide. È diciamo il 99%. No, dai, facciamo il 95%. 95%. È in gamba, è davvero bravo. Scriviamo da poco, da quattro anni, dal 2008, quindi per avere un risultato così di largo. Avrà avuto più fidanzate, forse? Beh, anche sì. Cioè, certo. Sì, vabbè, sì. L'otticamente sì. Perché l'ispirazione poi da qualche parte deve arrivare. Sì, assolutamente. Se parlate d'amore, se sono storie di vita privata, uno dei due ha un po' più fidanzato. Sì, chiaramente sì. Che saranno contente poi magari di ritrovarsi le testi delle canzoni. Sì, stavolta un po' meno. Qualcuna sì, qualcuna no. Dipende dal testo delle canzoni, insomma. Sì, vabbè, diciamo che ci passiamo alle storie di vita, però chiaramente a volte sono romanzate, non entriamo sempre nei dettagli, chiaramente. Ci mancherebbe. Scriverei una biografia, altrimenti. E invece la musica? La musica, il nostro produttore. Sì, il produttore che ci segue sin da quando siamo nati, Little Bustard, del B, praticamente fa parte dell'etichetta Wall Street Record che ha sede a Valenziano. Noi collaboriamo con lui già da 3-4 anni. Ci ha fatto, ci ha creato praticamente il primo album sia a Dolce Follia che il secondo Sinonime Contrari da cui appunto è stato estratto il video Il Bacio di Giuda. Niente, lui ha una serie di registrazioni completa, una location, quindi con molti strumenti su cui riusciamo a lavorare ed è molto competente sul sound. Il prodotto che è il suono che ne esce dai suoi studi dove noi andiamo a registrare è davvero ottimo a livello quasi di master ufficiali. Parte il fatto che anche a livello qualitativo ci dà una mano anche lui perché molte volte non sappiamo come o cosa fare e lui ci dà queste idee più... e van ci sono ci sono diciamo che seguono un po' più No vabbè diciamo che abbiamo appunto un seguito di persone la fortuna nostra è che abbiamo un seguito di persone è un target molto ampio andiamo dalla ragazzina magari dai ragazzini di 14-15 anni però sino a persone anche un po' più grandi cioè i nostri brani li ascolta chiunque alla fine anche una persona di 40-50 anni siccome i nostri brani sono molto melodici hanno piacere nell'ascoltare le nostre canzoni poi il nostro rap diciamo è molto diretto non ha particolari viaggi mentali oppure comunque è molto lineare vogliamo mandare solo un messaggio sì noi le cose che ci preme è il messaggio per comunicare qualcosa nei nostri testi questo è quello che ci interessa e cosa cercate di comunicare alla fine noi vogliamo essere diciamo ci vorremmo essere un ancora di salvezza a chi magari ha dei problemi e magari trova conforto nella musica cioè almeno io personalmente quando scrivo musica quando ascolto musica è per darmi forza magari i momenti della mia vita in cui ne ho bisogno e quindi vorremmo che magari le persone ascoltando le nostre canzoni potessero trovare forza per trarre insegnamenti di vita o comunque delle ispirazioni per andare avanti ed essere comunque fare una vita felice insomma al di là della musica cosa fate nella vita? ah io lavoro in uno studio di amministrazione contabile con mio padre quindi la musica per me è un hobby però se questo hobby tira alla fine potrei anche cambiare idea è un hobby che facciamo con serietà alla fine è difficile coniugare appunto il lavoro con la musica oppure anche nel mio caso li studi adesso io ho 9 mila però magari i vostri genitori saranno contenti di questa cosa perché poi sono i genitori che dicono non si vive di sola musica e quindi voi almeno i genitori non è che sono proprio propensi per la musica dicono metti la testa a posto e fai altro però riusciamo comunque a trovare un po' di spazio e un tempo per dedicarci è stato dura per me studiare e fare musica finalmente sono andato alla fine in questo ciclo di studi finalmente si laurea potrebbe essere un evento a Bari la mia laurea però io credo che tu possa farne anche una canzone a questo punto di quello che è stato il tuo percorso sì alla fine io faccio mi laureo in scienza delle comunicazioni e comunque è attinente con la vita appunto con le relazioni sociali sicuramente potrò trarre spunto da questo poi d'estate io sono capo animatore quindi mi piace stare a contatto con la gente conoscio persone nuove e ogni persona ti regala un'emozione ti regala una storia tu quando parli con una persona ascolti la sua storia entri in un altro mondo hai altre visioni del mondo capisci cose che tu magari non pensavi ed è bello confrontarsi con la gente e trarre piccoli segreti da tutti quanti ognuno secondo me ha una storia da raccontare e quando appunto noi scriviamo le canzoni vogliamo che la gente si rispecchi in quello che abbiamo scritto quindi magari scrivono una canzone e una persona possa ascoltarlo e dire cavolo è successa anche a me questa cosa sono contenta l'hai descritta sì l'hai descritta bene ogni volta tipo mi ricordo il nostro primo concerto io ho visto delle ragazze cantare una canzone nostra quasi commosse piangendo sì quasi piangendo io sono rimasto bloccato sul palco stavo per fare scena muta poi alla fine ha prevato il buon senso qualcuno però fino ad ora abbiamo parlato bene ovviamente di voi qualcuno vi avrà mosso delle critiche soprattutto qual è stata la critica che più vi ha fatto male le critiche che ci fanno male sono quelle non costruttive nel senso se tu mi dici guarda la tua canzone non mi piace perché qui è stonato questa qua non vi ha tempo la tua metrica è sbagliata tanto di cappello io sono il primo a fare mia colpa a mettermi di nuovo lì per fare un lavoro nuovo ma più che altro le critiche costruttive servono per crescere sì anzi noi le accettiamo io preso più un amico che mi dice guarda ti piace questa canzone piuttosto che mi dica sì sì bellissima guarda sì mi piace però questo lo accettiamo molto spesso siamo stati anche vittime di critiche così campate in aria però vabbè fa parte del gioco fa parte del gioco certo mettersi in gioco è anche questo chi lavora nel mondo dello spettacolo deve accettare anche questo con chi invece vorreste collaborare? questo è il nostro sogno non lo nascondiamo abbiamo avuto anche dei contatti con cui io questa persona mi sento un grande artista si chiama Tormento l'ex leader dei Sottotono adesso ormai in proprio fa comunque collaborazioni per me è una musa ispiratrice fa una musica spettacolare fa una musica spettacolare un incrocio fa R&B pop rap soul ho avuto il piacere anzi l'onore di conoscerlo quest'estate e appunto gli ho parlato di un progetto che stiamo facendo noi stiamo lavorando all'album nuovo e vorremmo appunto una collaborazione con lui abbiamo quasi raggiunto un accordo ne parliamo insomma e questo per me sarebbe un sogno perché comunque avere cioè fare un pezzo con il tuo il tuo diciamo la tua musica ispiratrice di quando eri piccolo io alla fine ho iniziato a fare musica ascoltando gemelli diversi Sottotono e quindi fare un pezzo con Tormento di Sottotono per me ci sta sì è un piccolo sogno che si realizza sarei molto contento e pare che si dovrebbe realizzare quindi sono contentissimo quindi realizza questo sogno invece avete mai pensato di partecipare a programmi del tipo ecco la butto l'X Factor perché vi potesse aprire più porte o perché vi facesse conoscere poi in tutta Italia sinceramente è una cosa che ultimamente ci stanno dicendo spesso ma perché andate a X Factor perché andate a X Factor io personalmente io sono in grado magari di di rappare di fare una strofa però non mi ritengo un cantante io so che comunque X Factor poi i programmi lì bisogna saper cantare quello che sa cantare è lui mi gira quello che sa cantare però puoi approfittare della sua voce sì allora facciamo così io la faccio la presenza oppure scrivo i testi e lui canta per propormi a un certo tipo di programma vorrei essere un po' più preparato vorrei seguire anche corsi di canto perché io nasco dal niente cioè ho iniziato a cantare così da solo in tanti comunque nascono dal niente forse ci vuole coraggio sì coraggio e anche un po' di fortuna speriamo c'è lo strono io lo dico spesso ma però io vi avevo immaginato come gruppo ad X Factor non vi avevo immaginati come singoli eh vabbè comiamoci se gruppo siete gruppo dovete andare avanti alla fine ha detto più che altro l'esperienza cioè la capacità canora lui ha questa capacità io un po' meno però alla fine funzioniamo magari perché siamo così ci completiamo ci completiamo a vicenda quindi se X Factor magari al prossimo si apre anche a persone che non sanno cantare come me vado volentieri vabbè dai titoliamo lui vabbè far prendere le lezioni e invece i titoli se state preparando il nuovo album qualche titolo secondo te possiamo dire il nome in anteprima dell'album mi lascia una titola una chica il nome dell'album nuovo l'album si chiamerà Un posto in paradiso è già in lavorazione praticamente si è già in lavorazione sono già pronti 3-4 pezzi l'album ne conterà penso dai 12 in su e appunto se avremo queste collaborazioni importanti con cui stiamo parlando in questa agenza sarà il nostro posto in paradiso quanto tempo va via per preparare poi un album? eh parecchio dipende comunque dal tipo di album che si cerca di fare praticamente il primo album Dolce e Follia che abbiamo prodotto ha rubato quasi due anni di vita anche perché ritorniamo al discorso di prima era il primo stavamo eravamo appena nati sul campo non sapevamo come comportarci ovviamente sono le difficoltà che si incontrano quando ci si approccia ad una cosa nuova abbiamo avuto la fortuna di avere appunto Little Buster che dal punto di vista musicale dal punto di vista certo davvero una grossa mano che lui riempava da quando aveva 12 anni si più o meno ha sempre fatto questo è nato facendo così e quindi abbiamo Dolce e Follia ci ha richiesto molto tempo invece consiglio di incontrare che è un EP sono otto brani molte collaborazioni è stata una cosa più veloce l'abbiamo girato diciamo da gennaio a giugno l'abbiamo fatto uscire infatti il 30 giugno è stata una cosa una collaborazione con tanti amici della scena hip hop barese ci siamo divertiti parecchio nel farlo si anche perché col secondo album siamo un po' cresciuti musicalmente si è stato tanto più facile scrivere e registrare scrivere e registrare perché poi uno più va avanti io vi ringrazio mi auguro che davvero poi ci sia un posto in paradiso ma il paradiso della musica quindi un paradiso terreno anche per voi vi ringrazio vi faccio un grandissimo in bocca al lupo speriamo di potervi ospitare nei nostri studi ancora anche per girare video si noi vi ringraziamo doppiamente siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione per questa intervista è per la location appunto per il video grazie mille ai Clevici con questo è tutto Punto 13 Talk vi dà l'appuntamento a lunedì grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti